Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Non perdete tempo, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche. Oggi discuteremo delle recenti modifiche apportate da Pier Silvio Berlusconi alla programmazione di Mediaset e dei rumors riguardanti Tina Cipollari e il suo futuro in uomini e donne. Berlusconi ha deciso di ridurre i contenuti considerati trash, un cambiamento che ha coinvolto anche il noto programma condotto da Maria De Filippi. Nonostante le voci su un possibile licenziamento di Cipollari, la stessa ha confermato sui social media che rimarrà al suo posto, esprimendo la sua stanchezza per le speculazioni. Berlusconi ha imposto una linea più moderata, escludendo episodi e comportamenti eccessivi, ma al momento Cipollari è confermata per la nuova stagione. Giorgio Manetti ha criticato Cipollari, appoggiando la necessità di una rivoluzione positiva nel programma, mentre Maria De Filippi continua a sostenere l'opinionista, riconoscendo il suo valore. Cosa pensi tu dell'eventuale allontanamento di Cipollari? Faccelo sapere nei commenti e non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per restare aggiornato con le ultime news.